Ciao amici e benvenuti tornati a questo nuovo video. Oggi appliceremo la grafica variante in Event Graf usando l'encodamento basico per the character's animation input. Good job! Let's do it. I choose to think positively No matter what's going on around me I have a great life And I'll continue to have a great life Every breath I inhale Let go 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.